Musica Ciao a tutti ragazzi sono Sbryser e benvenuti in questo unissimo video Oggi come potete vedere siamo nel secondo episodio di Colored Clay Parkour Direi altro che incominciare Già si prepara, oh mio dio, ok Opla, mio dio ce l'ho fatta Va bene, è la merda Mio dio, troppo difficile Ah perché sono messo ancora in creativa Perché praticamente ho fatto, essendo che avevo fatto la miniatura E io ho in modo 2, perché ho in modo 2? Non lo so E essendo che ho fatto la miniatura Mi sono messo in game mode 2 per appunto fare tutto il coso 3D e bla 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 dicendo Ok Merda, madonna Ci sono due way, ah no Una e poi due Va bene, vediamo se riesco Di nuovo Bene Vabbè Merda No, 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 no No, no Dai, mio dio Non ci credo Oh, dai No, come si fa? Come si fa? Troppo difficile Ok Non è troppo difficile Sì, vabbè io pure che è proprio Madonna Uh, facile Uh, facile Sì, facile Il cazzo facile No Ok Ci siamo Ci siamo Vai Uh, qua c'è Non l'ho visto Sì, vabbè Perché è proprio io Poi lo devo andare a fare Non è scritto da nessuna parte Che stupido che sono Ok Pure qua c'è scala Ok, ci siamo Questo per forza così Cioè, è più impossibile Questa parte qua Come cavolo faccio? Vabbè Va bene Dai, mio dio Salta Vai così Vai Ah, ecco che cosa serviva la scala Aspetta, faccio proprio una cosa furbissima Uh, ecco Ora No, dimmi che devo saltare là Impossibile questo salto Ah, da qua forse Come faccio? È impossibile No, mio dio Ci stavo riuscendo Vaffanculo Madonna No, raga Mamma mia Mamma mia Che brutta cosa Mio Dio Oh, mamma mia Vabbè La tecnica si è capita Perché praticamente Devo saltare due volte nel posto Si spera, eh Non si spera nulla Come si fa? Ragazzi Sto provando in creativa Non riesco nemmeno io Ma ci sono riuscito Ma, allora Di nuovo ci sono riuscito Madonna mia Madonna mia Madonna Madonna mia, raga Mio dio, sì Vai Vai There are Two ways Fanculo Io vado da questa parte Non mi rompere le palle Con il pulsante di merda Fammi dormire Madonna Vabbè Tra l'altro ci sono veramente No, ma io non voglio fare nulla Di questo tipo Perché poi c'è Ah Poi si potrebbe fare direttamente così Ah, che bastardo Ha messo No, ci sono i muri invisibili Faccio così praticamente Ora dovrei screllare Un'altra ora Per questa cosa Oh mio dio No No Non puoi farmi questo Mannaggia Loro Vabbè Si è capito Devo entrare proprio Dentro E poi Oddio sto cadendo Vai Va bene Come faccio A saltare A saltare quel blocco Di merda Va bene Cazzo Questo lo devo fare Merda Come faccio Lo devo fare veloce Questo No Madonna Madonna Alla punta Alla punta Mi devo mettere Io ho paura Raga Dai Ok Dai Perché non mi salta Cioè per come Ho saltato praticamente Ok Ho capito Prima di tutto saltiamo qua Prima di tutto saltiamo qua Prima di tutto saltiamo qua Secondo saltiamo qua Io tutto convinto Ovviamente Perché Se non sono convinto Io non ho convinto Nessuno No 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 Madonna Che pezzo di merda Mi devo fermare Quando sono là E credo anche Che dovrei fare Tutto il giro Poi Per forza Sì ma se nemmeno mi salti Nel blocco di merda Quello là Che tra l'altro Quelli rossi Ancora non ci sono stato In quelli rossi Immagino quelli rossi Praticamente Brutta cosa Bruttissima cosa Basta Merda Madonna Che cosa ho fatto Ok da qua È normale che ci blocca Almeno qua Perché fanno Perché hai Perché hai fatto queste cose Tu che hai creato la mappa Queste cose brutte Che dove fare così No No Aspetta Dove salterà qua No No è impazzito Chi pao Ma che stai scherzando Io ti sono riuscito Ok Ok No raga Non ci credo Perché qua c'è una scala Non è che ti buscino Andrò da qua Per saltare Ora dovrei Io dovrei farlo Da capo Dovrei fare Tutto il giro Da capo Dovrei Dovrei fare Tutto il giro Da capo Dovrei fare Tutto il giro Da capo È impazzito Dovrei fare Oh mio dio Ce l'ho fatta Sì sì Che bello Cosa c'è poi No raga Finisco qua L'episodio Raga Raga ho sclerato troppo Ho sclerato troppo Sclerò Merdo Non lo salvati Checkpoint Eh ci sono arrivato Mi spiace Eh raga Io finisco qua L'episodio La parte l'ho fatta Non potete dire Che l'ho fatta La parte della lava Solo che la merda Di cosa È che praticamente Questo qua Ha fatto Il livello Troppo lungo Cioè L'ha fatto troppo lungo La cosa Cioè praticamente Io dovrei Risaltare di nuovo là Saltare tutte le cose Fare il giro Fare di nuovo qua Cioè Sperare con Estrema cautela Pazienza E per di più Anche ansia Riuscire a saltare Di nuovo qua Poi dovrei Rifare tutto il giro Dovrei fare questo Dovrei fare quello Poi dovrei Praticamente Correre Perché Cioè Dovrei fare sempre così Fino ad arrivare qua Ma io non riesco Cioè io proprio Esco pazzo Arrivando a sto punto Io voglio avere la sanità Mentre lei Bella Limpida Dopo Aver detto queste cose Posso chiudere quel video Spero che il video vi è piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare Un mi piace Se il video vi è piaciuto Non mi piace Se il video non vi è piaciuto Vi invito a cliccare Mi piace Nella mia pagina facebook Che trovate sempre in descrizione Che dire Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Madonna Ciao a tutti Esatto Ciao a tutti Madonna Marana Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.